Sì, molto soddisfatti perché rispetto a loro siamo superiori, loro vi chiano molto e niente, bella partita. Siamo molto bravi a giocare, però dobbiamo imparare a non giocare con la guerra perché se no gli altri vincono. Siamo un gruppo bellissimo e spero di arrivare nei primi in questo torneo. Grazie.